Non sono stata io a decidere, non sono stata io a decidere, e nemmeno tu, e nemmeno tu. Dove sono? Ti ricordate che hai visto ho 25 anni che non faccio il culo a cussi e non c'era n'euro a nessuno. Fallandolo per tua vita! Aspetta! Mi stai scusando, Mario? Io sono grande sola, sola, sola! La Carolina non rientrerà mai più in questa classe!